Buongiorno, sono Augusto Gambuzzi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena. Come ingegneri abbiamo aderito con entusiasmo all'invito annuale di questo convegno sulla bioarchitettura. Le tematiche che vengono affrontate sono stimolanti e soprattutto sono stimolanti non solo sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto nell'inserimento del quadro normativo che le vede sempre più importanti nei confronti degli edifici e delle costruzioni che dobbiamo realizzare. Purtroppo la tecnologia va molto più forte della norma e quindi da questo punto di vista il nostro impegno serve anche per stimolare le pubbliche amministrazioni nella direzione di seguire con interesse l'inserimento, come ho detto prima, di queste tecnologie all'interno delle cose realizzabili negli edifici. Anche perché la qualità che queste nuove tecnologie portano nel vivere quotidiano sono veramente importanti e danno il senso del livello di benessere della società che si raggiunge. Sì, il motivo per renderlo attuale a livello normativo è che possa essere patrimonio di tutti e non solo di un'elite. Quindi il fatto di poterlo inserire come elementi naturali all'interno delle normative, cioè le normative stesse comprendono questo tipo di intervento e lo premiano, fa sì che tutta la società ne abbia un beneficio. Potrei citare veramente... Sì, renderlo fruibile, oltre che pubblicizzarlo, ma renderlo fruibile. E quale metodo migliore se non quello di inserirlo all'interno delle normative, delle cose che possono essere realizzate in modo semplice e premiante.